Un passo dopo l'altro, seguendo la conchiglia, sentieri, montagne e corsi d'acqua, la meraviglia del creato avvolge i pellegrini, primo giorno di cammino a piedi per i giovani della diocesi di Pistoia insieme ai giornalisti dell'associazione Green Accord, in marcia verso Santiago de Compostela. Sono le 7 del mattino, è la nostra prima tappa, la strada dopo un tratto pianeggiante si farà dura, 600 metri di dislivello, ma contiamo di arrivare alla meta per le 13 di oggi. La montagna che si inerpica spaventa un po', ma insieme ci si fa coraggio per raggiungere il primo stop, prima tappa tutta in salita, il bastone in mano, silenzio e preghiera nel cuore. San Giacomo prega per noi. Sono appena arrivata dopo 4-5 ore, 4 ore abbondanti di cammino, molto emblematico di quello che poi sarà sia a livello esterno che interiore. Una cosa che loro dicevano, anche la stupisce un po', camminare insieme a tanta altra gente sconosciuta e ci si augura a vicenda buon cammino. Entro sera da Valcarse bisognerà arrivare a Sarrea, 40 chilometri in tutto, nell'arco di una sola giornata. L'importante è camminare senza fermarsi mai. Aspetta da Giacomo prego! 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 Grazie.